I grandi e i piccoli perché? Perché molti animali non si riconoscono allo specchio? Quando ci alziamo al mattino per andare a scuola, passiamo sicuramente diversi minuti in bagno per prepararci. Per essere sicuri di aver domato i ciuffiri belli e di avere la faccia pulita e il sorriso smagliante, il nostro alleato è lo specchio sopra il lavandino, dove siamo sicuri di vedere l'immagine di noi stessi riflessa e di poterla controllare. Se fossimo dei gatti, ad esempio, questo non sarebbe possibile. Perché molti animali non si riconoscono allo specchio? I grandi e i piccoli perché? Perché molti animali non si riconoscono allo specchio? Oltre agli umani, gli unici altri esseri viventi che si riconoscono quando si vedono nello specchio sono le grandi scimmie, gli elefanti, le gazzelandre e i delfini. Gli studiosi, dopo aver condotto diversi esperimenti, hanno spiegato che per tutti gli altri animali non è possibile avere consapevolezza del proprio aspetto, perché per l'autoriconoscimento bisogna avere un'intelligenza molto sviluppata. Il risultato si raggiunge dopo aver appreso moltissime informazioni sul proprio essere e sullo spazio che si occupa. Tanto è vero che i bambini non sono capaci di riconoscersi allo specchio prima di aver compiuto un anno e mezzo di vita. Alcuni animali però sembrano capire che in una superficie riflettente c'è comunque un loro simile e pensano quindi di essere davanti a un nuovo amico oppure a un rivale invece che a loro stessi. Oggi ha imparato perché molti animali non si riconoscono allo specchio.